amici ascoltatori il 9 gennaio sarà una giornata molto importante per la nostra televisione ma direi importante un po' per tutte le televisioni perché quando arriva qualche cosa di completamente nuovo qualche cosa che si sa che ha già riportato un grandissimo successo in tutto il mondo sono tutti lì in attesa davanti ai televisori ebbene vi devo dire che canale 5 è riuscita ad accaparrarsi questa nuova serie televisiva che dicono addirittura superiore a dallas io ho avuto il piacere l'onore di parlare di questo dallas dieci anni fa nessuno ci credeva l'avevo visto negli stati uniti e dicevo fra me e me sicuramente farà un grande successo in italia e difatti così è stato twin peaks onestamente non l'ho ancora visto però saranno sette puntate e in base a quello che ho letto sui giornali americani pare che sia addirittura superiore a dallas quindi io vi consiglio di seguire questa serie che durerà sette settimane i segreti di twin peaks è come vi ho già detto l'erede di dallas parte come un giallo perché bisogna scoprire chi è stato l'assassino di questo personaggio e va avanti con tanti tanti imprevisti quindi l'appuntamento ricordate è per mercoledì 9 gennaio i segreti di twin peaks grazie